ciao lupetti benvenuti in questo nuovo video oggi ho deciso di portarvi con me a fare la raccolta delle erbe e lugnasat quindi buon lugnasat o lama su festa di raccolto come la volete chiamare ora il tempo non è di migliori quindi in realtà ieri tipo a grandinato già non so che cosa troverò però spero di riuscire insomma a raccattare qualcosa perché volevo tanto farlo il video anche perché comunque me l'avete anche richiesto e niente vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa sperando che appunto il tempo regga almeno mezz'oretta portiamo dalle cose base di raccattare erbe così prendiamola di racconto un po allora per andare a raccattare erbe o a raccogliere erbe allora innanzitutto bisognerebbe scegliere un periodo fra luglio e agosto cosa che però non è obbligatoria nel senso che se volete raccogliere fiori di gesomino vi dovete dare una mossa fra aprile maggio per dire quindi ok in base al ciclo della pianta però in generale si può dire che le erbe dovrebbero essere raccolte fra luglio agosto che è il cosiddetto periodo balsamico ok cioè le piante sono piene di oli essenziali essenzialmente vi fanno meglio e lavorano meglio questa è la sostanza e poi quando si va a raccogliere erbe sempre raccogliere le erbe che si conoscono a meno che non abbiate una particolare predilezione per scoprire cose nuove allora in quel caso ci può stare che magari raccattate due o tre esemplari quindi studiate a casa ma di solito sempre andare su erbe che si conoscono anche perché molte erbe in realtà sono tossiche e bisogna sapere le parti tossiche ok e poi boh il resto ve lo dico dopo anche perché mi sta venendo un crampo al braccio grazie a tutti grazie a tutti in questo caso qui abbiamo un po' di achillea non è tantissima e anche un po' di verbena anche qui non è tantissima sospettavo perché comunque la come si chiama magari ne ha fatto sui danni infatti qua una volta era un intero prato pieno di achillea vedo che praticamente non è rimasta mezza allora quando si raccoglono i fiori innanzitutto prendere sempre le specie di cesoie ok e poi non prendere mai tutta la pianta quindi prendere solo dei pezzi lasciare l'offerta e prendere solo dei pezzi non so se riesco a farvi vedere non so se riesco a farvi vedere diciamo che se avessi bisogno di more non ci sarebbe problema trovarne nel pieno perché praticamente hanno popolato un intero pezzo ecco invece una pianta che volevo trovare assolutamente è l'assenzio che è questa qua laggiù c'è un iperico mezzo distrutto ok ho fatto tutto per non bagnarmi mi sono inzuppata fantastico ma va bene ci sta ok ho fatto tutto per non bagnarmi mi sono inzuppata fantastico ma va bene ci sta poi fra l'altro fate conto che tutte le piante più sono pesanti quindi tipo foglie degli alberi è meglio se le raccogliete prima e lasciate le più delicate dopo guardate quanto assenzio tipo c'era del della borsa del pastore ok e l'ho lasciata indietro così quando torno indietro prendo comunque quella che invece si rovina un po di più rispetto tipo a abbastanza inizio per dire che è abbastanza pesante come pianta fra l'altro che rispetto all'anno scorso è massacrato ora non so se si lene no è una delle piante che non ho ancora capito che cos'è la prima o poi ho capito ok intanto ci siamo questo è il cosiddetto rio rosso c'è un filo di ferro nell'acqua motivo per cui è tutto rosso sicuramente ci sarà anche qualche leggenda riguardo tipo fiume di sangue e robe del genere non ne ho idea questo è il luogo preferito delle zanzare quindi se esco viva da qua sono a posto però siccome qua ci sono tipo un centinaio di zanzare io finirò distanguata oh ciao carina niente oggi è la giornata delle mini lepre ma è anche vero che di solito io ho i cani quindi motivo per cui se ne stanno nascoste che carina abbastanza soggettivo però questo tratto di chiamiamolo bosco che poi è un bosco mini boschetto cioè due piante messe in croce ma chiamiamolo bosco se proprio vogliamo chiamarlo tale o una ghiandaia o una gaza fra l'altro tenete sempre da conto comunque prima di qualsiasi altra cosa non si vanno a raccogliere erbe il rispetto in generale quindi non solo la pianta deve essere bella deve ricevere l'offerta d'accordo non deve essere tagliata per intero d'accordo ma poi guardate anche per esempio che sulla pianta non ci siano insetti vari che magari stanno a difesa della pianta perché non so ci sono tipo le sue uova ok o che o che non sia una pianta anche per esempio malata quindi se vedete che magari ha le foglie di un colore strano così dovrebbe essere automatico però io ve lo dico perché è giusto così se tipo è malata o cos'è lasciate stare tanto a parte il fatto che è sempre meglio cercare piante che si conoscono prima aspettate che c'è una pianta anche la gigante ok prima della qualsiasi che corvo mi fa parlare quindi prima di tutto piante che si conoscono ok niente o sono io che gli do fastidio o c'è la con qualcosa che sono simile e poi guardate lo stato di salute della pianta io non riesco a tenere in mano alta la fotogamera avete pazienza guardate lo stato di salute della pianta quindi se notate che magari ha delle cose un po' marcette o i fiori già decade tipo se è l'iperico che è andato a raccogliere l'iperico vedete che i fiori non sono gialli ma sono già marroni e c'è di perdere tanto è mezzo marcio e voi non ve ne farete assolutamente niente ok boh era a scopo informativo questa è la salicaria è interessante abbastanza però magari la prendo dopo perché è un po' delicata è un po' come la borsa del passo dopo guardate la quanta salicaria che c'è sì sì passo dopo non so neanche se la vedete vedete quelle macchie viola la salicaria io passo dopo ok vedete adesso sì qui anche l'anno scorso non vedo appunto le tracce già della grandina e non solo era un'intera distesa di Achillea però come vedete la grandina ha fatto il suo qui sono tutte le piante buttate per terra oddio sta neemone giallo resiste imperterrito alla qualsiasi però è quanti corvi non so se li vedete io sono quelli che non mi faceva parlare prima comunque quelle che rimangono forti sono quelle che non ti servono mai quindi a vedete Achillea ce n'è proprio uno sputo cioè ci sono ma sono massacrate quelle che rimangono invece ferre come sempre sono le silene che ufficialmente non servono a niente se non a fare mi pare il risotto o la minestra non mi ricordo più che sono tutte queste cose bianche che vedete queste qua si chiama silene che se non sbaglio è anche una cos'è una ninfa o qualcosa del genere comunque infatti è pieno e non serve a niente allora il punto dell'iperico è questo vedete non ce n'è un'esagerazione ma ripeto un po' me l'aspettavo noto che la viperina è sparita viperico ce n'è qualcuno vedete viperina adesso provo ad andare ancora un po' avanti vediamo se riesco a beccarne qualcuna il perico resta la viperina un po' meno probabilmente neanche mi sentite perché ho fatto delle macchine perché c'è l'autostrada qua con mio sommo di spiacere non ne vedo la viperina me l'ha distrutta fra la grandine e tutta l'acqua anche perché la viperina se non mi ricordo male la riferisce ai tipo luoghi incolti sì ma non necessariamente ricchi d'acqua mi sa che sono marcite riuscite un po' perché la viperina è un bel fiore cioè è una bella pianta in generale e può diventare anche bella alta quindi bella ha un bel portamento però niente cioè i suoi fiori sono azzurri con delle strisce rosse è abbastanza facile da distinguere questa è quercia è abbastanza facile da distinguere e non ne vedo allora io mi prendo un po' di quercia mentre che ci sono e poi prendo l'iperico e poi penso che torneremo indietro prendiamo la salicaria la borsa del pastore il sole ci ha graziati quindi ancora due o tre così non sto già tornando indietro noto con piacere che tipo l'assenzio è esploso ce n'è ovunque e in realtà c'è anche Artemisia che però non prendo perché non sono sicura di quale specie sia cioè credo che sia quasi banalmente l'Artemisia vulgaris ma siccome non ne ho la certezza assoluta preferisco a non prenderla perché immagino lo sappiate comunque l'Artemisia fra le altre cose può essere tossica alcune specie l'Artemisia vulgaris non tanto ma le altre insomma tra l'altro anche l'assenzio o un trattore tra l'altro anche l'assenzio è una specie di Artemisia che non è velenosa ma insomma bisogna saperla dosare altrimenti può diventare un po' pericolosa non eccessivamente mentre invece appunto c'è dell'Artemisia qua intorno la vedo che non è assenzio riconosco che è Artemisia ma non sapendo bene quale specie preferisco evitare per stavolta che quando magari sarò un po' più ferrate sulle singole specie magari ne approfitto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cardo è una delle piante preferite delle api, dei fiori, insomma, è di quelle che vengono considerate mellifere, cioè che amano molto le api, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io quando sono in macchina, questa macchina deve essere una specie di attrattiva per i caprioli, perché io tutte le volte che sono in macchina mi spunta un capriolo, che sia davanti o dietro. Tra le volte che sono in macchina in un bosco mi spunta un capriolo davanti o dietro, in questo caso dietro, perché l'ho visto dallo specchietto retrovisore, bellissimo comunque. Giovane, perché aveva ricorne piccolino, bello. Comunque, a parte questo, a parte un fantastico capriolo, qualche mini lepre, l'avete visto? Corvi, api, insomma, vabbè, ok. E comunque qua non è che siamo tanto distanti dalla strada principale, cioè la strada principale è laggiù, è finito questo, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ma non si vede un cazzo. Bene, ok, finito quel pezzo di sentiero, c'è la strada principale quella con le macchine, insomma, si è anche spinto abbastanza fuori, insomma, rispetto all'ordinario. Comunque, ultima sorpresa felice. Allora, l'unica delusione di oggi, allora, oggi è stata una buona raccolta, nel senso che mi aspettavo molto peggio, però alla grande l'avete visto, ha massacrato un po' di tutto, ha massacrato l'achillea, ha massacrato tutte le piante che c'erano. Tranne quelle due o tre che non servono a niente, tipo la silena. Però è stata una buona raccolta, voglio dire, non è andata malissimo, eh. Insomma, abbiamo trovato tutto, tranne, ovviamente, è la viperina. E quella mi dispiace, perché secondo me è marcita, perché appunto, se non mi ricordo male, il terreno che predilige è un terreno, non dico secco, sì, incolto, ma insomma, secondo me è marcita. L'anno prossimo proverò a venire a luglio, che io sono praticamente a secco di viperina, perché io ho solo più quella che ho raccolto l'anno scorso, è vero che la doso in maniera minima. Sono rossissima perché sono accaldata, non perché, a parte il fatto che l'ombra mi fa sembrare più rossa, un po' accaldata. Comunque, è andata bene come raccolta, sono contenta. C'è la seconda parte del video, allora questo video sarà la prima parte, appunto, dedicata alla raccolta delle erbe, mentre invece la prima, la seconda parte sarà invece su come conservare le erbe, perché anche quello comunque è abbastanza d'obbligo perché ci sono fiori, eccetera, eccetera. Comunque non finisce qua perché io non solo vado in giro a raccogliere le erbe così per i prati, eccetera, eccetera, ma vado anche, insomma, a casa, ho diverse piantine, perciò voglio provare a farvi vedere, insomma, anche come raccogliere tipo i fiori di bisco, i fiori di bisco che io li raccolgo quando sono a terra, non li stacco. Idem le rose, cioè, aspetto che si spettali, no? Vabbè, che perdono i petali, insomma, poi raccoglio i petali. Se riesco vi faccio vedere anche qualcosa lì. Avrei anche la lavanda, ma la lavanda è troppo giovane, ha fatto la prima fioritura quest'anno e non ho alcuna voglia di raccoglierla già adesso. E quindi, niente, probabilmente ci vediamo dopo. Se invece non ci vediamo dopo, no, non credo, perché penso che ci vedremo, perché vi devo far vedere qualcosina. E poi, niente, adesso andiamo a casa, perché io devo assolutamente farlo. Allora, mi recupero un po' di rosmarino, che sono proprio secco. Però l'altro ne è nato uno di nuovo, fantastico. Ok, sono tornata a casa e, boh, avete visto, ho preso i fiori di bisco e... Noi abbiamo di rosmarino, anche perché poi, tipo, ho guardato la rosa, ma ancora non sta sfiorendo, quindi non serve a niente andarla a staccare. Dio, sono rossissima. Non serve a niente andarla a staccare per cosa. E niente, io con questo rossore in faccia, che è un po' caldissimo, vi lascio un bacione. Noi ci vediamo al secondo video, poi la seconda parte, poi la rigata a come conservare delle erbe, ecco, per farle seccare e come conservarle. Vi lascio un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!